Riflettori accesi all'iDrive sul SUV ultracompatto di casa Ruzuki. Suzuki Ignis versione ITOP 90 CV ad un prezzo come sempre imbattibile, Euro 13.490. Prezzo valido in abbinamento al finanziamento Fii Drive, escluso IPT e vernice metallizzata. Suzuki Ignis, essere libero di muverti in ogni direzione. Ottimo l'allestimento di serie della nostra Suzuki Ignis ITOP, cerchi lega, barre al tetto silver, console centrale ed interne porte bicolore black and white, tunnel centrale in maniglie porte orange, sedili in tessuto trapuntato orange, griglia anteriore black and chrome, fari full LED, climatizzatore automatico, navigatore con mappa tre dimensioni. Fari fendilebbia, cruise control, specchietto retrovisore in tinta, regolabili e con indicatori di direzione integrati. Alza cristalli elettrici, anteriori e posteriori. Suzuki Ignis versione ITOP 90 CV ad un prezzo come sempre imbattibile, Euro 13.490. Il prezzo è valido in abbinamento al finanziamento Fii Drive, escluso IPT e vernice metallizzata.